Bentornati amici investitori e benvenuti qui sul canale di Vivere dei Dividendi io sono Daniele e oggi fa tanto freddo infatti sto con la felpa dunque come avete letto dal titolo oggi non parliamo di business ma parliamo di investimenti nella sua forma più tradizionale questo a seguito di un live che abbiamo fatto con Domenico e Davide ve la lascio qui sotto in descrizione nelle schede dove abbiamo parlato di finanza comportamentale quello di cui ci siamo resi conto è che una live però data la sua durata spesso e volentieri viene accantonata dal grande pubblico tuttavia è un argomento talmente tanto interessante secondo noi che ci andava di riproporlo qui su questo video dunque non perdiamo tempo, sigla e andiamo a guardare insieme i 7 punti della finanza comportamentale che qualunque investitore dovrebbe conoscere prima di iniziare però è bene andare a spiegare quantomeno in maniera generale che cosa significa finanza comportamentale stiamo parlando di una branca della finanza, un settore della finanza la quale va a cercare di utilizzare le teorie psicologiche del comportamento delle persone per spiegare, per razionalizzare delle anomalie di mercato quelle che vengono tradizionalmente definite anomalie di mercato come ad esempio un crollo vertiginoso oppure un aumento improvviso dei prezzi di acquisto di un'azione quello che viene detto dalla finanza comportamentale è che lo studio dei singoli investitori è sufficiente a spiegare questo tipo di fenomeni perché? Perché la somma di tutti quanti i singoli investitori fa il mercato azionario dunque per studiare il mercato azionario è bene andare a guardare il piccolo particolare il processo che si fa dunque è studiare il singolo particolare per arrivare al fenomeno complessivo e che cosa ci dice questa finanza comportamentale di così misterioso che ci potrà aiutare a investire meglio? che siamo tutti quanti molto 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 emotivi prima che chiudete il video cerchiamo di spiegarla bene è vero, è effettivamente vero noi persone siamo estremamente emotive e l'emotività è la nemica suprema dell'investimento e tutti quanti noi aspiriamo ad essere il più razionali possibili ma l'emotività è un fatto comunque preponderante del singolo investitore è dunque bene riuscire a comprendere quantomeno noi come ragioniamo in senso generale perché potremmo rivederci in questi comportamenti e magari in futuro riuscire ad applicare perché siamo consapevoli di come ci comportiamo delle scelte differenti e quale motivo l'emotività è nemica? beh noi come investitori quello che facciamo è cercare di dare un'interpretazione alla realtà ma se questa interpretazione si basa su fatti oggettivi, concreti, razionali è un conto se si basa sull'emotività è un altro perché l'emotività rappresenta la realtà si relaziona con la realtà in base alle sue esperienze personali non basata su criteri logici, su criteri magari matematici o comunque su principi pratici quello che cerca di comprendere la finanza comportamentale in sostanza è cercare di capire come si possa unire questa emotività che è un fattore che comunque esiste nelle persone con la pura e semplice logica e dunque per diventare degli investitori sempre più consapevoli è bene che voi impariate questi sette principi della finanza comportamentale cerchiamo di farci tutti quanti assieme in questo video un bel esame di coscienza sono sicuro che se non su tutti quantomeno sulla stragrande maggioranza di questi punti vi ritroverete perché bene o male tutti quanti ragioniamo allo stesso modo punto numero uno la nostra paura della perdita è molto più incisiva dell'eccitazione derivante dal guadagno razionalmente quando noi andiamo ad investire all'interno del mercato azionario sappiamo perfettamente che ci sono due scenari plausibili o il prezzo sale o il prezzo scende questo a livello razionale a livello emotivo invece è tutto quanto un altro discorso perché la nostra paura il nostro dolore derivante dalla perdita magari di un meno 5% sarà incommensurabilmente maggiore rispetto ad un guadagno del più 5% ed è una cosa di mera sensazione non è che la possiamo controllare più di tanto anche se in maniera un po' più consapevole possiamo capire che effettivamente non è una cosa che controlliamo noi e può succedere tranquillamente che il prezzo vada giù oppure il prezzo vada su ma perché questo è veramente deleterio per gli investimenti perché noi se l'azione è in perdita non la vendiamo subito ma magari aspettiamo nella speranza che questa risalga per magari anche solo tornare in pareggio aspettiamo aspettiamo e magari l'azione continua a scendere e quindi commettiamo sempre più errori per non avere il coraggio di chiudere la posizione quando dovremmo punto numero 2 ed è molto simile ad un altro punto che incontreremo e devo ammettere che anche in questo mi ci ritrovo abbastanza crediamo soltanto in quello che vogliamo credere questo cosa vuol dire che noi come investitore abbiamo la tendenza di ignorare tutte quante le informazioni negative ed abbracciare calorosamente soltanto quelle positive quando in realtà dovrebbero quantomeno ambedue essere prese in seria considerazione punto numero 3 e questo è il cardine portante di tutti quanti i video su youtube per quanto mi riguarda ovvero tendiamo a seguire tutti quanti il flusso il flusso che cos'è? non è altro che un insieme di investitori che si muove come un greggio verso una determinata direzione e questo che cosa comporta? che sempre più investitori e specie quelli un po' più novizi, gli inesperti sicuramente seguono il flusso della corrente e dunque se tutti quanti stanno investendo in Tesla perché crescerà ancora di più bene anche io magari vorrei investire in Tesla oppure se tutti quanti stanno vendendo qualcosa bene anche io magari dovrei vendere quel qualcosa per paura che il prezzo si abbassi troppo è una logica molto umana e anche molto erronea perché non è detto che la massa abbia sempre ragione per quanto in teoria almeno gli investitori dovrebbero essere il più razionali possibili ma come sappiamo Mr. Market non è razionale soprattutto nel breve periodo quello che facciamo quindi magari è andare a guardare quelle azioni più vendute nel corso del mese oppure quelle azioni più comprate in un anno e magari investire su quelle ed è il motivo per cui a mio parere aziende come Tesla, Amazon, Alphabet sono tutte quante azioni molto capitalizzate proprio perché sempre più persone seguono il flusso e ci vanno ad investire sopra che magari potrebbe essere derivante da una scelta accurata, studiata di quello che è il bilancio aziendale, tutti quanti i fondamentali dell'azienda ma magari no, è semplicemente perché tutti quanti investono lì e perché non investire il grande problema di questo, al di là del fatto che la scelta non è tua perché magari l'investimento della massa non va bene per te al di là di questo, è che se non sai effettivamente quell'azione per te quanto dovrebbe valere quando dovesti chiudere la posizione beh, rischierai di veramente non sapere quando chiudere quella posizione e dunque che cosa fai? non saprai quando vendere, non saprai quando incassare che è un grande errore perché poi magari l'azienda comincia ad andare in perdita e perdi tutto quanto il profitto che ti sei creato punto numero 4 abbiamo un fortissimo impatto su tutte quelle che sono le informazioni più dettagliate possibili quando noi ci interessa un argomento spesso e volentieri cominciamo a masticare molte informazioni almeno nel mio caso è così e infatti mi ci ritrovo molto in questo e dunque cerchiamo di andare a guardare le informazioni che vanno sempre più nel dettaglio oppure all'apparenza e tralasciamo quegli articoli magari di giornale che sono molto più brevi anche solo nella lunghezza perché? perché magari in quelli più lunghi ci sono più informazioni che possiamo scavare quando in realtà magari non è così anzi, magari quel giornale che fa degli articoli molto dettagliati in realtà non sono della stessa affidabilità di un giornale che fa degli articoli molto più brevi molto più incisivi e molto più interessanti ma non solo questo allo stesso tempo noi tendiamo a dare ascolto più ascolto alle informazioni più recenti scartando totalmente tutte quante le informazioni meno recenti quando in realtà magari non è così anche perché come dice lo stesso Warren Buffett il 99% delle informazioni che troviamo è pura speculazione, è puro gossip è soltanto l'1% delle fonti importanti quindi anche un articolo magari di 6 mesi fa potrebbe essere molto più attuale rispetto a un articolo uscito un giorno fa questo magari al di là di situazioni particolari come il covid, come è successo però in generale avete capito di che cosa sto andando a parlare in questo marasma di informazioni, di possibilità è normale che tutti quanti noi agiamo in determinati modi spesso e volentieri dettati anche da dei veri e propri bias cognitivi che noi abbiamo ovvero dei pregiudizi che influenzano le nostre scelte ed è qui che arriviamo alla seconda parte dei 7 punti della finanza comportamentale ovvero i 3 punti rimanenti, cioè i bias primo bias, il bias che probabilmente tutti quanti noi commettiamo al di là degli investimenti è un bias che veramente abbiamo la difficoltà a scardinare e spesso e volentieri anche se lo conosco ci cado continuamente ovvero il bias di conferma quando noi crediamo ad un'idea che ci viene in mente beh cercheremo come nei punti precedenti che abbiamo detto cercheremo di dare ascolto soltanto a quelle informazioni che consolidano la nostra idea lo vediamo nella cultura, lo vediamo nell'aspetto più ludico lo vediamo nella politica, lo vediamo nella religione lo vediamo negli investimenti, ci andiamo a rinchiudere all'interno di macro aree, macro bolle all'interno delle quali tutti quanti noi ci diamo delle pacche sulle spalla per dirci quanto siamo bravi quando in realtà non dovrebbe essere così il grande problema è che rischiamo di perderci soprattutto in campo finanziario delle informazioni, delle nozioni veramente importanti per la decisione di magari acquistare oppure vendere un'azione soprattutto vendere soltanto perché con il nostro bias l'azienda dovrà continuare a crescere dunque scarteremo a priori una qualunque magari un qualunque articolo qualunque informazioni che ci dica il contrario punto numero 6 l'illusione del controllo che io performance per carattere non sono fatto in questo modo ma riconosco che la maggior parte degli investitori ha ragione in questo senso e dunque è bene portarlo in tavola quello che spesso e volentieri gli investitori fanno è investire sotto l'illusione di una sorta di controllo del mercato azionario e dunque io ho una teoria su come dovrei investire in una diversificazione del portafoglio molto particolare una tecnica per comprare e vendere che magari si rivela esatta nel primo anno e dunque continuerò a riutilizzarla perché beh effettivamente ha funzionato ho battuto il mercato azionario e dunque la riutilizzerò anche se non c'è alcuna base dietro semplicemente io credo che funzioni e dunque ricontinuerò a riproporla il problema di questo è che come al solito siamo oscurati da quella che è la nostra idea di come dovrebbe funzionare il mercato quando in realtà nessuno lo sa ed è proprio su questo che vorrei concentrare anche l'attenzione nell'ultimo punto ovvero il problema del senno di poi a tutti quanti noi piace fare delle previsioni qui su youtube è pieno di persone che fanno costantemente delle previsioni io stesso tento di fare delle previsioni su come andranno particolari aziende magari ti limiti a quelle aziende un po' più consolidate come Amazon oppure magari quelle un po' più di nicchia però in realtà la verità è che il mercato azionario non guarda in faccia a nessuno ed è uno dei mercati, dei settori più incerti che ci siano sì è vero possiamo fare delle previsioni e magari continueremo anche a farle se la prima si rivela esatta ma la dura verità è che nessuno di noi sa effettivamente come andranno le azioni nel futuro dunque come si può rassumere questo lunghissimo video beh semplicemente bisogna essere razionali il più razionali possibili bisogna scardinare totalmente gli aspetti emotivi che mi rendo conto sono incredibilmente preponderanti nella sfera umana ma se noi conosciamo quantomeno tutti quanti questi punti di cui abbiamo parlato di sopra beh in altre parole resteremo un po' più consapevoli sul nostro agire e magari riusciremo ad evitare di fare dei grandi grandi errori vi ringrazio veramente tantissimo per aver guardato questo video assieme a me vi chiedo di lasciare un commento per farci sapere un po' qui sotto cosa ne pensate vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.